Ecco come può essere il risultato di un gioco strutturato attraverso Keynote, con il metodo dei tre ancoraggi. Dobbiamo scoprire il romanzo, quindi seguiamo la freccia. Prima di tutto dobbiamo indicare ciò di cui stiamo parlando, perché la soluzione del gioco deve trovarsi all'interno di un contesto ben preciso. Quindi lo studente dovrà scoprire se stiamo parlando di Siddhartha, Uomini Topi, la Trilogia della Città di Kappa, un anno terribile, Full of Life o le Libere Donne di Magia. Detto questo, proseguiamo. Il primo step è un classico distrattore. Ci chiede dove vuoi andare. È ovvio che molti penseranno di poter andare al mare. E invece, in questo caso, ricevono una risposta. Nessun romanzo è ambientato al mare. Da notare che questa risposta consente al giocatore di mettere da parte una informazione utile. L'informazione consiste precisamente che nessun romanzo è ambientato al mare. gioco forza. Vediamo cosa succede se andiamo a casa. Andiamo a casa e scopriamo proprio la facciata di una casa. Questa facciata andrà scoperta in qualche modo. Abbiamo creato una interfaccia attraverso un disegno. Questo disegno è stato realizzato con un'applicazione per iPad che si chiama Paper 53. Possiamo utilizzare anche Photoshop Sketch, che è un'applicazione gratuita che consente di realizzare ottimi disegni. Ce ne sono ovviamente tante altre. Qual è la caratteristica di una interfaccia fondata sulla scoperta? È che precisamente non abbiamo indicazioni precise. Non sappiamo che cosa fare. C'è scritto qui in basso a destra Scopri i protagonisti. Ma dove siano questi protagonisti? E come facciamo a scoprirvi? Questo non lo sappiamo. Questa è una caratteristica che fa parte del gioco e che stimola il giocatore ad applicare la propria curiosità per scoprire dove possono essere celati gli elementi a lui necessari. Quindi proviamo a fare dei click o dei tap se usiamo l'iPad. Non succede niente. Ecco che qui forse qualcosa avviene. Ci chiede se gli animali sono protagonisti. Allora vediamo anche l'altra finestra. Che cosa ci offre? Ci dice che forse potrebbe essere un uomo che viaggia il protagonista. Oppure, terza finestra, amici e fratelli. Bene, a noi la scelta. Beh, amici e fratelli potrebbe essere interessante. Proviamo, facciamo un click o tap su amici e fratelli. Sbagliate. Questa freccia ci riporta indietro. Dunque, come potete notare, la prima informazione che noi possiamo ricavare significativa sul libro che dobbiamo scoprire è del tutto casuale. La ricerca delle informazioni è casuale. L'accumulo di informazioni è casuale. Però, a mano a mano che noi andremo avanti, ci troveremo, naturalmente, ad avere il nostro bagaglio di informazioni, delle notizie utili per poter svolgere delle ricerche e applicare la nostra intelligenza. Proviamo a vedere se si tratta di animali. Facciamo un click su questo strano animale e, vedete, la scena cambia. Ogni volta che la scena cambia nel videogame significa che siamo passati di livello, quindi abbiamo realizzato un avanzamento. Leggiamo. Fra i protagonisti ci sono degli animali. Ora, selezione al tema del romanzo. Dunque, vedete, casualmente, noi abbiamo già ricevuto due informazioni importanti. La prima è che nessun romanzo è ambientato al mare. La seconda è che, fra i protagonisti, ci sono degli animali. Sono due informazioni preziose. Vediamo. Si parla di un viaggio? L'argomento del lavoro è un tema simbolico? Animali potrebbe parlare di un viaggio, forse non del lavoro. Vediamo che cosa succede. Facciamo click o tap qui, sul disegnino che rappresenta il viaggio, non succede niente. Anche sull'argomento del lavoro non succede niente. Quindi, in questo caso, non ci riporta all'informazione, alla schermata, che ci informa di aver sbagliato. Se facciamo, invece, clic o tap qui, è un tema simbolico, siamo condotti a un altro livello di gioco. Quindi abbiamo superato questo livello di gioco. Abbiamo già tre informazioni importanti. Adesso ci chiede di scoprire le relazioni psicologiche. Beh, vediamo. Prima erano le finestre. Giustamente ora le finestre sono inattive. Forse la parte attiva di questa casa sarà costituita dalle porte. Vediamo. Le relazioni sono forse introspettive? O forse sono fondate su interessi pratici? O forse... Vediamo. Familiari. Beh, vediamo un po'. Forse interessi pratici. Però animali potrebbe essere affettive. Vediamo. Vediamo. Affettive familiari. Vediamo un po'. Ricapitoliamo. Quindi abbiamo passato il livello. Abbiamo scelto una cosa giusta. Ecco le informazioni che abbiamo accumulato. Gli animali sono fra i protagonisti. È una vicenda simbolica. È centrata su relazioni familiari. Ci dice a questo punto il gioco che forse possiamo cercare di capire di che romanzo si tratta. In effetti, se li abbiamo letti, cioè, vale a dire, se si tratta di informazioni, contenuti, di nozioni che abbiamo appreso a scuola, forse a questo punto siamo anche in grado di fornire la risposta esatta. Siddhartha, uomini topi, tridogia della città di Kappa, un anno terribile, full of life, la metamorfosi, le libere donne di Mariana. Beh, uomini topi, parla anche di animali, ma non sono effettivamente fra i protagonisti. E poi, non è una vicenda simbolica, ma è una vicenda reale. È l'amicizia tra due uomini che avrà un risvolto tragico. Vediamo, la metamorfosi di Franz e Kafka, invece, è proprio centrata su un animale perché è un ragazzo che si trasforma in scarafaggia e per di più. La vicenda è centrata su relazioni familiari e è una vicenda certamente simbolica. Quindi, proviamo a fare clic o tappo sulla metamorfosi. Ecco che cosa succede. Ci appaiono delle informazioni, la metamorfosi di Franz Kafka. Il giovane Gregor si sente scarapaggio in una famiglia utilitaristica e incapace di amare. Quindi, siamo giunti alla scoperta del romanzo che c'era appunto chiesto di trovare all'inizio. E il gioco ne approfitta per fornire delle informazioni. Siamo giunti alla conclusione del gioco perché lo abbiamo strutturato solo su due livelli. Si tratta infatti di un esempio. Vi è piaciuto questo gioco? Bene. Allora dovete sapere che lo scopo non è di costruire un gioco per far giocare i propri allievi. Non sarebbe economico. Ci occorrebbe un certo lasso di tempo per costruirlo e poi il gioco sarebbe sfruttato, sarebbe consumato rapidamente. Sono invece gli studenti a dover creare dei giochi di questo genere sui contenuti che hanno preso in classe. La costruzione di un gioco infatti sviluppa le capacità cognitive, sviluppa l'intelligenza e sviluppa la creatività.